Siamo proprio in spiaggia Guardate qua Proprio una foresta Vi faccio vedere un po' la spiaggia Magari ti fermi? Ma io la faccio vedere Basta, basta, amo Entriamo o non entriamo? Non puoi entrare poi, amo No, fermiamoci Fermiamoci Oh, non ho, non mi entrare in retromarcia Scherzetto Veicoli proibiti in spiaggia Ma qua è la discesa per il mare Vedi E ora vi faccio vedere un attimo qua Parcheggiamo E ci facciamo una passeggiatina Cos'è sgaricchiamo le gambe Siamo quindi a Clairvue 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 Boat Ramp No, questa qui Clairvue Non penso che sia il nome Non so di preciso dove siamo Non so di preciso dove siamo Stiamo andando verso Makai C'è ancora un'oretta di strada C'è ancora un'oretta di strada Abbiamo visto una segnaletica In questo villaggio Sono andato sulla strada Perché abbiamo detto Dai, fermiamoci un attimo E sgranchiamo le gambe Ma adesso Si riparte Sempre con il posto Gli alberi in acqua E poi E poi C'è un isolotto lì E un isolotto Più grande Qua Vediamo se riusciamo a zoomare A vedere qualcosa No, niente Vediamo Vediamo quanto riguarda Quattro Ha quattro file No, quattro file di ruote Ma tutte gemellate Quindi otto file di ruote A questo passo C'è il carro Siamo a Dove siamo? Makai Makai Ragazzi Se volete Se avete fame Venite qui a Makai I cospiti nostri Abbiamo fatto Un chilo e otto Di salsicce Panini Panino a fette tostato Tacchino Salsa Questa Questa qui Australiana Panini belli così Ah Guarda qui Tac Buona Ed è qui Il panino con la salsiccia E ve ne andate Pancia piena E sorriso stampato in faccia Buongiorno Buongiorno Oggi è la primavera Andiamo Qui bene Quattro Grazie 24 settembre 2023 Dobbiamo già fatto 2200 km E siamo Terzo L'ultima tappa Stando in settembre Natali E mancano Quattrocento chilometri Stiamo camminando Da un'oretta Quindi Siamo svegliati presto Le quattro del mattino Ci siamo svegliati Dormito un pochino Stiamo facendo strada Siamo partiti Mercoledì mattina Arriveremo Sperando Aspetta Una passa per gli sconduri Domenica mattina Verso le 10 Sperto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto verde, il sole, c'è caldo, 100 chilometri. Dopo praticamente sono 3.470 chilometri. Arriveremo a base a 3.600 chilometri fatti. Wow. Siamo vicino. Cardwell Vamparo. Siamo a Cardwell. Mancano 45 chilometri. Wow, guardalini. Ci fermiamo un attimo. Sì. Io ci vedo un attimo. No. 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 Questa è Cardwell. Vai. Guardate qui dove siamo. Questo è Cardwell. Questo è l'oceano. E c'è bassa marea. E' tutta bassa marea. E quella lì è questa specie, questa isola gigantesca che vedete qui. E' un'isola. Non mi ricordo come si chiama, però deve essere una cosa fantastica. E' un'isola gigantesca. Il tempo è stupendo. Non c'è caldo. C'è il sole. Però c'è un 20 cento fresco. Siamo quasi arrivati. Sì, mancano 40 chilometri. Siamo quasi qua. Il mostro è ancora qua. Tra poco arriveremo. Ci siamo quasi. Ci sono le canne da zucchero. Questo era il vento che faceva svolazzare le canne da zucchero. E' pieno di canne da zucchero. Andiamo là. Oh, guarda che l'elettrica. E' pieno di canne da zucchero. Qua c'è la montagna. Siamo quasi arrivati. Tagli tagli. 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 Ci siamo. Siamo quasi arrivati. Adesso entreremo a Tagli e poi andiamo direttamente verso la casa. La casa che abbiamo preso in affitto. Dovremmo essere proprio al centro. Dovremmo essere proprio al centro. Dovremmo lì. Tagli, Giorgio. Dovremmo. Dovremmo. Dovremmo gli alti. Qua c'è. Ok.